Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome901 e oggi siamo di nuovo qui su Happy Wheels. Siccome non mi ero incazzato abbastanza nell'episodio scorso, adesso mi son detto ma oggi è una giornata un po' troppo calma e tranquilla, manca quel tocchetto di incazzatura, quel qualcosa che proprio mi faccia incazzare, quindi chi meglio di Happy Wheels, quale gioco meglio di lui può riuscire a farmi incazzare tanto. E allora iniziamo subito con i livelli di merda e con gli impossible che come al solito non riuscirò a fare mai. Vediamo quanti livelli riesco a finire, credo molto pochi e vediamo un po', ecco questo col vetro proviamolo, vediamo un po' quante incazzature posso mai prendere. Ecco neanche ancora sono partito eppure, oh ci sono mine ovunque eh! Ah forse ho capito come devo fare? Eh la madonna oh! Va bene! Allora ricominciamo! Aspetta non fare! Eh vabbè! Oh ma cazzo ma è impossibile! Come cazzo faccio a salire là sopra? Oddio mio! Uah! Niente non cadono! Eh! Sì ma come cazzo li fate questi livelli? Santo Dio no no usciamo! Cioè veramente almeno fateli ad altezza come dire altezza salto ecco non li fate così a casa! Oh! Questo sembra facile! Ora succede il putiferio ecco! Come come proprio come pensavo! Ora faccio un bel salto! Dai Steve! No! Va bene! Allora questa volta uuuuuh! e questo ragazzi ce l'abbiamo fatta a finirlo! Minchia! Finalmente! 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 Questa volta t'ho fottuto! Space fan! Proviamo questo! Vediamo sempre! Questa volta metto Eddie! Questo con la biga! Oh mio dio! Ma che cazzo devo fare? Ehi ehi! Non andare lì! Ma allora non ho il controllo del personaggio! Ve lo dico eh! Chissà vi stareste chiedendo se... Ma megadome ma cosa fai? Rimani fermo con Luke infilzato nel culo? Sì! Questo gioco è una stronzata colossale comunque! Direi di cambiare e di cercarne uno migliore! Impossible al 99,99999% Proviamo! No! Col cazzo! Devo prendere Steve! Ho sbagliato! Devo prendere Steve! Ecco qua! E voilà! Uuuuua! Con quella palla da demolizione ci vorrebbe Miley Cyrus! Lei è esperta! Per Dio! Che macello! Lei è esperta di palle di demolizione! Uolee! Non ce la farò mai! Non ce la farò mai! Dai! Vedremo budella go go ragazzi! Vediamo riprovo! Ehi! Vediamo che parte del mio corpo c'è arrivata all'obiettivo! Però non saprei esattamente quando lanciarmi! Eh ma figa ma sei lento a cadere però eh! Qui la gravità è normale! Uolee! Va bene! Va bene! Proviamo di nuovo! Ok! Mi sono suicidato stavolta praticamente! Ok! Dai! 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 Vabbè! Io questa direi che è una vittoria anche se non è a passo! Io la prendo per vittoria! Perché sono arrivato con tre quarti di corpo! Figa! Non è che posso arrivare sempre con tutto il corpo! Impossibile a metà! Quindi al 50%! Vediamo! Vediamo un po'! Eh ma che schifo di salti che faccio col poco! Eh questo è un salto decisamente migliore però! Sono arrivato a metà! Vai! Vai 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 vai! Eh! Ma ora dovete spiegarmi perché non mi ha dato la vittoria! Perché guardate! Sono intero! Cazzo! Sono intero! Eh! Perché cazzo non mi ha dato... Oh! Ragazzi! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! E sono morto! Ok! Riproviamo di nuovo! Non prendere la mina e si vola di nuovo! Si vola verso l'infinito e oltre! Boom! Morto! Ok! Quella mina lì io l'avrei tolta in effetti! E questa volta come vedete il livello è stato superato abbondantemente! No 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 no! Per carità! Ci ho già avuto culo una volta a superarlo! Non voglio tentarci di nuovo! Impossible! Ecco vediamo un po'! Play now! Proviamo questo! Questo è il mio terzo livello! Io sono hacker bzzb de kill! Vabbè! Non c'ho sbatti di leggere! Vabbè! Vado avanti io! Vado avanti! Vado avanti! Perché chi salta piano salta non sano e salta lontano! I miei nuovi detti ragazzi eh! Guardate! Guardate! No! Ma qua forse siamo sicuri che devo andare avanti col poco! Cioè certe volte faccio dei salti della madonna invece altre volte... Ecco per esempio questo è un bel salto eh! Poi non so dite voi! Eh ma questa è una nabbata perché continua a cadere! Porca di una puttana troia! Ora salto anche all'indietro! Salto anche all'indietro! Dai allora un altro salto della madonna! Dai! No! Porca di una troia! Ma cosa c'è di difficile in un salto? Santo Dio! Eh si scivola porca troia! Che cazzo siamo all'acqua park? Ma intanto ce l'ho fatta ragazzi! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Andiamo qua sotto! Mi butto eh! Eeeee! Cadaveri di nonno ciacca a go go ragazzi! A go go! A go go! Va bene! Direi che con gli impossible oggi è andato abbastanza bene! Proviamo subito un ball throw! E qui ora inizieranno davvero gli scheleri e le incazzature! Balla throw! Certo balla throw non può essere! No io avevo scritto ball throw! Ok! Andiamo subito qua! Perfetto! Ball throw troll! Ball throw! Proviamo questo! Vediamo un po'! Allora devo sbloccare la vittoria! Madonna quanto mi sta sul cazzo il sistema di lancio di queste sfere! E sono morto ovviamente! Cioè con tutte quelle... Tutte le cazzo di volte che gioco! Con tutte le... Le... Come dire? Le possibilità che c'ho! Vado a beccare sempre la morte! Ma non perché è piazzata lì! Ovunque essa sia la becco eh! Forse le piazzano proprio... In modo che vengano prese facilmente! Io non ho idea! Guardate! C'è una cosa incredibile! Bah! Che cazzo ci gioco a fare al ball throw se poi prendo sempre la morte! Vabbè! Guardate! Guardate che cazzo di tiro parabolico! E cosa vado a prendere? Vado a prendere la morte ovviamente! Vado a prendere la morte! Due palle! Fanno comodo! Nella serie due palle! Due palle me sta a mangiare! Eeeh! Allo queen! Dai! Non posso fallire! Me vaffanculo! No ragazzi! Non è possibile! Non è possibile! E poi questo è relativamente facile! Rispetto... Ma cose da pazzi! Cioè faccio lanci assurdi! E vado a finire sempre sulla morte! Riproviamo un attimino! Due palle! Minchia! Due palle davvero! Me sto ad annoia! Quella è a lock win! Quindi devo tirare piano! Piano! C'ho due palle soltanto eh! Oddio! Una sola! Quindi automaticamente non posso vincere! Bene! Direi di provare un'ultima volta! Altrimenti cambiamo livello! Eeeh! Che tiro della madò! Minchia! Ma perché non ci riesco mai? Poi mettono sempre... Eeeh! Che... Ma ragazzi! Ditemi se questo non è un tiro epico oppure no! Voglio un pollice in su per questo lancio! Soltanto per questo! Bitch please! Ok! Ne proviamo un altro! Ecco facciamo un menu! No! Che cazzo sto a fa? Allora! Eeeh! Quindi proviamo subito un altro ball throw! Vediamo un po'! Questo qui proviamo questo! Vediamo! Eeeh! La minchia qui eh! Qui è facile che si perda! Eeeh! E vabbè ovviamente! No questo... Questo ragazzi è epico! Ah! Perfetto proprio! L'ho accompagnata verso la mia morte! Eeeh! Bene! Sì! Sì! Che cos'è sono? Ah! I punti interrogativi te la mettono un culo! Va bene! Ok! Allora adesso... Adesso! 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 E prendile ste cazzo di palle! Su! Un aiutino! Uuuu! Mi ha bloccato le morti! Che figata! Che figata! No! No! Non andare dai punti! No! Porca troia! Porca troia! Allora! Help! Grazie! Dammi una lock win! No! Ho perso di nuovo mi sa! Ma non puoi star ferma cazzo! Guarda! Lentamente si avvicina la mia morte! Oh mio Dio! Proviamo per l'ultima volta! Altrimenti ragazzi cambiamo! Ecco un piccolo aiutino! Scusate il telefono che mi squilla eh! Troppo sono sempre ricercato peggio del sindaco! Baby! Oddio! Posso lanciare un bambino! No! Che figata! Ma son morto lo stesso! Va bene ragazzi! Direi di provare l'ultimo livello! A questo punto! Boltrow hard! No no ragazzi! Hard no! Per favore! Allora... 5 stelle! Ecco ovviamente! Ovviamente ho preso la morte! Ma io non so! C'hanno il... C'è una specie di calamita all'interno della morte! Più 2! Help! Bene! Uoooooooh! E ragazzi con questa vittoria a dir poco epica! Io vi saluto! Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto divertire! Come al solito mettete un bel mi piace! Iscrivetevi al canale! E noi ci vediamo in un prossimo video! Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!